e quindi cosa pensate voi per fare un buon caffè bisogna prendere l'elemento il caffè io te è un bel caffè più lo mandi giù più ti viene su altro elemento che bisogna avere questa reticella che ti fa risparmiare gas e questo adattatore per metterci la caffettina sopra acqua fino alla valvola di sicurezza il caffè mi raccomando di non schiacciarlo nel filtro abbondante sì ma non schiacciarlo se no si ottura la caffettina non schiacciarlo ecco qua adesso mettiamo il filtro qua e adesso con una mano non ci riesco metto la caffettiera nella fiamma e scintillo ecco è venuto il caffè ecco in un altro video vi ho fatto vedere come fare del buon e genuino espresso alla napoletana caffè espresso alla napoletana vi lascio prossimamente farò un altro video sui ciao forse all'americano spero che anche questo video di gastronomia cassericcia vi sia piaciuto io vi faccio con tanto sentimento e dalla prossima grazie di seguirmi se mi seguite per la prima volta iscrivetevi al canale azionate la campanella e grazie a tutti quelli che mi seguono da sempre se volete approfondire il tema di come fare dell'ottimo un espresso caffè espresso alla napoletana trovate degli altri video nel mio canale però prossimamente ho deciso anche di provare a farlo in tanti modi oltre che alla napoletana espresso devo vedere di organizzare naturalmente fatemi sapere nei commentari come volete che prepari il caffè all'americana la turca la francese e poi fatemi sapere nei commentari a questo video come lo prendete voi il caffè e poi andate a vedere andate a vedere i miei altri video sul caffè ciao